Ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video stasera andiamo a Milano dal nostro amico Ernest che ha organizzato un evento benetico questo evento, tutti i soldi che verranno raccolti dalla lotteria tutto quello che verrà raccolto verrà devoluto ai ragazzi meno fortunati in pediatria in cui verranno dati dei giochi tipo playstation o non so che altro e comunque ci sono anche dei bambini in pario per noi ed è una buona causa io parto dal lago di Seoaf, potete vedere Ernest e il suo amico da cui ho conosciuto che si chiama Motoretto, Nicola, grazie, ciao Nicola Ciao a tutti 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 Ciao a tutti